Io sono stato già qua nel 2011 per un'altra rassegna molto bella e devo dire che è sempre un piacere incontrare il pubblico pescarese, poi c'è stata anche un'altra opportunità di incontrare sempre il pubblico pescarese qualche anno fa in un'altra location. Comunque sono molto felice di essere accompagnato questa sera dal mio trio con Gianluca Nanni alla batteria e Ander Surlich al contrabbasso. Noi ci dilettiamo nel giocare con la musica, soprattutto io nasco da un percorso musicale e penso di essermi divertito anche con i testi e con quelli che sono i vocaboli, le parole e le storie più belle che mi piaceva raccontare. Io studiò a Urbino, che è l'università del Tade, mio padre lo conobbe alla Tadea all'età di 17 anni e fondarono insieme un gruppo che si chiamava, cioè che la fondò Ivan con mio padre e un altro bassista di un paese di vicino che si chiamava Walter Monachy e avevano questo trio che si chiamava Anonymous Sound. Niente, suonarono insieme fino al 1972 e fecevano anche un cantagiro che era, diciamo, una bellissima manifestazione canola dell'epoca musicale e pubblicarono diversi di Ischi, quindi è un bellissimo ricordo poter vedere il mio papà vicino a Ivan, che poi tra l'altro è stato un carissimo amico di mio padre, aveva esperienze condivise e allo stesso tempo io sono stato amico, insomma, dei figli, assolutamente, sia di Filippo che è un po' Italia e di Tommaso.